In Sardegna si è parlato di Varnaccio, un vittinio che dà delle espressioni assolutamente insolite rispetto alle vinificazioni normali, vinificazioni sempre in botti scolme, con stati ossidativi incredibili, molto simili a Sherry, Madeira, nel mondo riconosciuti come vini da grande meritazione. Oggi Giuseppe Carus ha presentato queste nostre perle a tantissimi curiosi, e tantissimi appassionati che sono rimasti veramente entusiasti di questo vittinio che sa esprimersi non solo in gioventù, 5, 6, 8, 10 anni, ma anche con espressioni di 20, 30, 40, 50 anni con un abbinamento che può essere molto particolare, ma spesso anche solo di fronte a un cammino come un sigaro acceso.